Ciao a tutti, oggi prepareremo la cicoria piccante con pomodorini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono olio evo, aglio, peperoncino, pomodori tagliati a pezzi, cicoria, sale, pepe e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio, l'aglio e il peperoncino. Per insaporire per 5 minuti 120 gradi, velocità 1. Aggiungere i pomodorini, la cicoria, il pepe, il sale e l'acqua. e cuocere per 25 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1 con il cestello al posto del misurino. La cicoria è cotta, impiattare e servire. cicoria piccante con pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta! C'è un po' di più! La cicoria è cotta, impiattare e servire. La cicoria è un po' di più! C'è un po' di più! C'è un po' di più!